Lui è Ferdinando, ha 5 anni, è arrivato qui da noi a seguito di un appello, c'era una famiglia che non poteva più occuparsi di lui. Quando è arrivato da noi purtroppo non era in condizioni ottimali, aveva le unghie lunghissime, abbiamo dovuto sedarlo per tagliare queste unghie, e dargli le prime cure veterinarie del caso, ma ora come vedete sta benissimo, continua a chiacchierare e se vi siete innamorati di Ferdinando, come ci siamo innamorati noi e desiderate adottarlo, dargli un'altra vita, chiamateci, vi daremo tutte le informazioni del caso. Che bel tipo questo Ferdinando, è un bel pagione, quasi tocca a terra, proprio come la tua Elsa, Stella. Ferdinando sembra proprio la mia maglialina Elsa. Anna e Elsa sono cresciute con me e quindi siamo veramente amiche. E voglio dire a tutti voi telespettatori di questa trasmissione che non c'è nessuna differenza fra il nostro maglialino e il vostro cagnolino, hanno tutti e due gli stessi diritti. Quindi spero che vi abbiamo convinti ad adottare il nostro Ferdinando. Diamo il numero di telefono? Ok, allora chiamate il 389-9160-585, oppure come a seguito,